Fronte compatto in difesa del Parco Naturale dell'Altamurgia dalla servitù militare. La Quinta Commissione regionale approfondirà con l'esercito e il Comipa, il Comitato Misto Regione e Forze Armate, l'ipotesi di spostare lo spazio riservato ai militari che insiste proprio nel cuore dell'Oasi naturale. Contro si sono schierate le sigle ambientali nazionali e il centro-sinistra. Il PDL invece ha chiesto equilibrio tra le due questioni contrapposte, difesa e ambiente, sulle quali la regione Puglia non ha piena competenza. Il presidente dell'ente Parco, Veronico, ha riferito sui danni alla flora e alla fauna prodotti dall'ultimo campo di addestramento, 3.000 militari e mezzi pesanti impiegati della Brigata Pinerolo. Tra l'altro i poligoni di tiro, allestiti senza preavviso, hanno bloccato per oltre due ore un pullman di una scolaresca in gita scolastica. Di qui l'ha auspicato raccordo con le esigenze dei militari che, nel frattempo, hanno inviato il programma delle prossime visite. Abbiamo ribadito che un'interlocuzione su questo tema con le forze armate può avvenire solo se cancellano le esercitazioni già previste per settembre. È impossibile discutere di questa vicenda mentre ci sono delle esercitazioni in atto. È in un periodo che il periodo degli incidenti, insomma, esercitazioni a fuoco sono veramente una follia. La quinta commissione convocherà l'esercito, la provincia di Bari e gli altri enti interessati prima di ogni decisione, ma l'ultima parola su difesa e servitù militari spetterà comunque allo Stato.